Appartamenti, garage, anche una villa. Beni in gran parte vuoti, sfitti da decenni e completamente improduttivi. Con canoni annui di locazione già stabiliti che però in più di un caso non sono mai stati incassati, poiché gli immobili sono privi di abitanti. È la fotografia del patrimonio immobiliare dell'Inps a Como, secondo quanto spiega Vittorio Motola, ex consigliere comunale, che da tempo si sta occupando di una realtà che giudica discutibile. Quotidianamente, afferma Motola sulle colonne del Corriere di Como, i lavoratori vedono il tanto atteso appuntamento con la pensione spostarsi sempre più avanti. Tutto questo per scoprire che l'Inps in tutta Italia detiene e non sfrutta decine di immobili che sono potenziali fonti di reddito. Soldi tanto necessari alle casse dell'ente di previdenza. Analizzando sul sito dell'Inps l'elenco degli immobili datato 2016 l'ultimo aggiornamento disponibile e dei relativi canoni che dovrebbero essere attivati, nel capologo Lariano risultano una quarantina di unità immobiliari. In diversi casi, secondo Motola, si tratta di sprechi che incidono sui contributi versati dai cittadini. Ma ecco lo spaccato comasco, così come emerge dall'elenco degli immobili dell'Inps. 39 unità immobiliari esistenti in città, 3 in via Italia Libera, 2 in via Masia, 1 in via Vittorio Emanuele e 32 in via Varesina. Proprio qui, nella maggior parte dei casi, si tratta di appartamenti vuoti da oltre vent'anni, sottolinea Motola, che definisce discutibili i canoni annui previsti, anche se in molti casi mai applicati. Si varia infatti da 283 euro all'anno per un box ai 4.000 euro all'anno per un appartamento in via Varesina.